Questo programma è offerto da Tecnocampus Venerdì 24 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa Come ogni mattina offerta da Tecnocampus Anche oggi come sempre tanti sono i fatti in primo piano Che andiamo subito a scoprire sulle testate nazionali E vediamo questa mattina in primo piano sul fatto quotidiano Quelle che sono le notizie più rilevanti E vediamo nella parte alta chi la fa franca senza reato di abuso di ufficio Questa l'ideona di Salvini, così dice appunto il fatto Aboliamolo, anzi no, cambiamolo Il vice premier leghista fa una mezza marcia indietro Ma è ancora solo campagna elettorale In realtà la legge non riesce a essere pienamente efficace I casi di Fontana, Marini, ma anche Nogarin ed Emiliano E ancora il procuratore di Roma, Viola Battellovoi, a 4 a 1 Si cambia infatti Pignatone in pensione, suo candidato sconfitto Il procuratore generale di Firenze ottiene infatti L'avallo della quinta commissione del CSM Grazie all'accordo tra magistratura indipendente e la corrente di Davigo Ora però deve decidere il plenum del Consiglio E vediamo il repilogo dei fatti Tangentopoli 2 Ecco che cosa si è scoperto finora E ancora si parla proprio di questa situazione Nella parte centrale della pagina L'argomento che in questi giorni e oggi per l'ultimo giorno Visto che si conclude oggi la campagna elettorale Tiene tutti attenti e soprattutto vivi Ma anche in maniera polemica molte persone È quella che è la guida al voto Visto che domenica 26 maggio si vota per le europee E insomma l'invito è sempre quello rivolto a tutti voi Di andare a votare, di scegliere in maniera oculata Ma soprattutto di andare a votare To lega senza programma le proposte dei partiti Quelli che ne fanno per cambiare l'Unione Europea Sintonia PD, Forza Italia, Subice e Migranti E il Movimento 5 Stelle chiede tagli all'Eurocasta E sul sito Salvini pubblica soltanto i principi Che ispirano il gruppo parlamentare Europa delle Nazioni e delle Libertà Quasi tutti i partiti chiedono investimenti pubblici fuori dal deficit Fratelli d'Italia chiede il blocco navale antiprofughi Ancora la guastafeste, Meloni, Berlusconi teme il mio sorpasso Salvini è stanco E insomma vediamo che anche all'interno della medesima coalizione Ci sono degli attriti, forti attriti E adesso si va avanti probabilmente in maniera separata E ancora vediamo da Cannes nella giornata di ieri 27 anni dopo la strage di Capaci Il traditore non tradisce grazie a Favino e Bellocchio Da Palmadoro il film su Buscetta E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Sulla chat Lady Berlusconi, La Pascale, Matteo e Ollercio Buffone Insomma ancora si commentano in maniera disarticolata Tutte le verità che vengono raccontate nel quotidiano Verità ovviamente ognuno a modo suo E continuiamo ancora a vedere gli altri fatti in primo piano Ci spostiamo adesso sul quotidiano di Via Solferino a Milano Il Corriere della Sera E vediamo che si parte dall'Olanda I populisti non sfondano Via il voto europeo Ieri alle urne anche la Gran Bretagna Domenica lo scrutinio May sempre più in bilico Exit poll ha sorpresa in testa i laburisti La Lega, Movimento 5 Stelle Scontro e insulti sull'abuso d'ufficio Olanda insieme alla Gran Bretagna Ha già votato per le elezioni del Parlamento Europeo Lo scrutinio sarà domenica Giorno in cui si vota anche in Italia Ma in Olanda sono stati diffusi Appena chiuse le urne i primi exit poll Con una sorpresa I laburisti, la sinistra sarebbe in testa Anche se il vantaggio sarebbe minimo Mentre non sfonda la destra euroscettica Oggi urne aperte in Irlanda e Repubblica Ceca Sul fronte italiano continua la campagna elettorale Fatta di polemiche Sgarbi e insulti L'ultimo fronte aperto Quello del reato di abuso d'ufficio Che la Lega vorrebbe abolire Mentre i 5 Stelle no E intanto l'intervento I nuovi partiti Me li ha spiegati La marmellata Dice Jonathan Cosa Sono un vero abitudinario Ogni mattina a colazione Mangio pane tostato Ogni mattina di solito Lo spalmo di marmellata Molto britannicamente E ancora vediamo nell'editoriale Le false convinzioni Raccontate da Angelo Panebianco Se ci si ferma all'apparenza Ma le cose vedremo Sono più complicate così Non c'è partita Chi riesce a mobilitare più e meglio Le emozioni Colui che riesce a parlare al cuore E alla pancia degli elettori È in grado di sconfiggere Chi si appella al ragionamento E anche questo probabilmente È più che vero Anche perché le persone Sono stanche delle parole Vogliono effettivamente Chi le parole le sa usare bene Ma sa anche fare altro E intanto vediamo Nella parte centrale della pagina Una storia raccontata Dal Corriere della Sera Suo nome d'arte è Mendel La musica l'ha salvato da un incubo La mia vita senza feste Perseguitato dai bulli Infatti questa è una vicenda Che viene raccontata Proprio in questo articolo In questa fotonotizia I nemici, i bulli Avevano i volti Dei suoi compagni di scuola Sin dall'elementare Mi accerchiavano Mi deridevano Perché era un bambino Che amava stare in silenzio Mi chiamavano il mutuo E nello spogliotoio Della palestra Mi sbeffeggiavano Alle medie anche peggio Isolato, scansato State lontano dal gay Dicevano tutti Ricordi la sofferenza Che si sono sciolti in musica E lo hanno aiutato A resistere E sconfiggere i bulli Sono di Mendel Al secolo Michele Di Tommaso La sua storia La musica mi ha salvato Insomma Sempre più spesso Raccontiamo vicende Che riguardano il bullismo Raccontiamo Di una scuola In cui i bambini Non sembrano essere solidali L'uno con l'altro Come nella realtà Degli adulti E sembra sempre essere Più brutto E più complicato Ma molto spesso Ecco Si trova Ad esempio Nella musica O in qualsiasi altra attività Che riesce A trascinarci Al di fuori Di questi scontri La soluzione Per venirne fuori Insomma La forza Che uno riesce Ad avere all'interno Diventa Il motore E l'azione Per emergere E venire fuori Da queste situazioni Sempre più brutte Ci spostiamo adesso Sul libero Il modello Carroccio paga Il miralcolo economico Nel Trimeneto Nelle regioni Dove il centrodestra Ha fatto il pieno di voti E i pentastellati Non hanno vinto seggi Si è arrivati A un livello di esportazioni Mai visto Cinque volte superiore A quello del mezzogiorno Ma con Gigino Ministro del lavoro E sviluppo E record di casse integrati Altro che europee Le elezioni sono Un referendum Tra Lega e Movimento Cinque Stelle E nella parte centrale Della pagina Il gentiluomo Di Maio Gli attacchi Dei grillini A Salvini Toccano il fondo Matteo vuole abolire L'abuso d'ufficio È ingiusto E Cantone D'accordo con lui E intanto La voglia di Bavaglio Se parli male in tv Ti censurano E nella parte bassa La guerra del dizionario Tutto quello Che è vietato Dire e scrivere Viene raccontato Da Vittorio Feltri E ancora nella parte Più bassa della pagina Gli editori Hanno le travegole A quanto pare Per vendere libri Regalano marijuana Siamo arrivati davvero Alla frutta E ancora Turismo in zone a rischio Le mete sconsigliate Per le vacanze E ovviamente Le mete che di solito Sono sconsigliate Sono quelle Che vengono prese Più da salto Sembra strano a dirsi Ma la realtà È che le persone Cercano ogni giorno Sempre di più Qualcosa Che li faccia evadere E ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Il giornale Istruzioni per l'uso E per non affogare Proprio perché Fra due giorni Si vota Ecco i numeri Che certificano Il fallimento totale Gello verde In economia Se non si cambia Andrà peggio E il governo Litiga pure Sul falso in bilancio Cassa integrazione Boom Aumento IVA Chiusi 9.000 negozi E ancora diventa Tutta una polemica Ma soprattutto Un'incognita Cambiamo il cambiamento Dice Alessandro Sallusti E nella parte centrale Della pagina Berlusconi chiama Gli indecisi E aspetta Il crollo Dei grillini Mentre nei commenti La storia Di un aggettivo Così fascista È diventata Una vera e propria Parola Vuota Come tante altre Che vengono utilizzate Per indicare Qualcosa Che non si conosce Molto spesso Il significato Si perde E ancora Quell'ipocrisia Che uccide Ancora Falcone L'anniversario Conteso Ieri 27 anni Dalla strage Che ha portato Alla morte Di questi due magistrati Falcone e Bursellino E adesso Ci si ritrova Ancora Una forte Polemica Ma questa Purtroppo È sempre La realtà Dei nostri giorni E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Uno studio Che ci racconta Chi siamo E chi eravamo E il perché I cognomi Spariranno E infatti Oggi è difficile Pensare Al concetto Di famiglia Senza pensare Anche al cognome Che della famiglia È uno strumento Identificativo Ma per questo E per quanto sia strano Da immaginare Il cognome È uno strumento Identificativo Che si è sviluppato In un preciso momento Storico Lo studio Di linguistica Franco Crevano Che parteciperà Al festival E storia Di Gorizia Spiega Il cognome E la risposta Ad una precisa Esigenza Di tutte le società Identificare Le persone E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina Marina Berlusconi Cannabis Libreria Mondadori Dice no E ancora Nelle altre pagine Dei quotidiani nazionali Andiamo a vedere Quali sono Gli altri fatti In primo piano Lo facciamo col tempo Dove vediamo In primo piano Un atto Di violenza Notevole La violenza Dei bravi ragazzi Caccia alla lista Dei frequentatori Della discoteca Dello stupro Giovani Carini E insospettabili Controllate le telecamere Intorno allo stadio Reazione Shock Dei coetanei Cose che capitano Davvero siamo arrivati A questo punto Cose che capitano Mi pare Veramente Una assurdità E ancora Nella parte centrale Torniamo a parlare Di politica Abuso d'ufficio Di maio Passa Gli insulti E nella parte bassa Della pagina Le larghe intese Di confindustria Una pia Illusione E nella parte Destra Della pagina La mamma Di zagnolo Rapinata All'euro E il figlio Calciatore Minaccia L'addio Ancora Vediamo Gli altri titoli Funerali Del padre Del padre ucciso Della figlia Pianti Applausi Il ricordo Il ricordo di Falcone Fuori dal bunker A Palermo La cerimonia ufficiale Disertata Anche dal sindaco Orlando Intanto Cann Buscetta Secondo Bellocchio E nella parte centrale Della pagina Si parla Di lezioni europee Si aprono Con la paradossale Partecipazione Al Regno Unito Che potrebbe premiare Il nuovo partito Di Farage In attesa Delle dimissioni Di May Che per ora Non molla L'Olanda Frena gli euroscettici Socialdemocratici In testa E vediamo Il titolo Del manifesto Della parte centrale Di questa pagina In e out E infatti Vediamo Chi è dentro E chi è fuori E ancora Nella parte bassa Della pagina Si Watch Italia Fonda Gommone E nave militare Non interviene E ancora Il bottino Della Libia Oltre alle bombe È cominciato Il staccheggio Infine Dell'India Spoglio Dei voti Modi E bip Stramincono Opposizioni Schiantate Ancora Continuiamo A spogliare Le prime pagine Dei quotidiani Nazionali Andiamo a vedere In questa giornata Che cosa ci racconta Il mattino Lo facciamo Con le notizie In breve Della parte alta E si parla Innanzitutto Del festival di Cannes Il buscetta Di bellocchio Incanta Cannes Non fu assolutamente Un eroe E ancora Promessi Quattro colpi Vertici Dell'Aurenti Sancelotti Tutti i nomi da trattare Attacco Spunta De Polla E la telenovela Juve Il giallo di Guardiola Scuote la borsa E indaga La Consob Ancora vediamo La parte alta Della pagina L'articolo Di apertura Anche su questo quotidiano È tutta dedicata Alle elezioni Domenica Europee Però con un'attenzione Particolare Sapete perché Semplicemente Perché secondo il titolo Del mattino di oggi Il sud Dimenticato Comizi di chiusura Tutti i leader De Roma in su Il flop del reddito Porta al nord Anche i 5 stelle Salvini Di Mario L'ultimo scontro Sull'abuso d'ufficio Blocca Italia Va rivisto Stupidaggine Insomma Mentre vediamo Che nei quotidiani Del nord Si vantano Di come Ovviamente La gestione Di Salvini E della Lega Abbiano portato Risultati concreti Al sud Si continua A boccheggiare Non perché Ci siano incompetenti O veramente Sfaticati Ma semplicemente Perché molto spesso La parte del Meridionale Di questa nostra Italia Viene accantonata Questo viene raccontato Oggi dal mattino E questo Probabilmente È quello che Tante volte Ci raccontiamo Anche noi E ancora Vediamo Gli exit poll Olanda I populisti Non sfondano Sorpresa Laboristi Sono in testa Intanto Un'intervista Zingaretti Movimento 5 stelle Responsabile Dello spacca Italia E per quanto riguarda Le aziende in crisi Vediamo che Quelle 138 Vertenze Ancora da risolvere Aumentano il problema E nell'editoriale Di Luca Ricolfi Legalità Chi rovina Un'idea giusta Infatti può darsi Che le imminenti elezioni europee Smentiscano Chi sta scrivendo Ma ho l'impressione Che il voto Potrebbe riservare Alla Lega Un risultato inferiore Alle aspettative Del suo leader Drogate da mesi e mesi Di sondaggi esaltanti Dicendo questo Non sto pensando Al cosiddetto Effetto winner Per cui il vincitore Annunciato di un'elezione Riceve nei sondaggi Più consensi Di quelli Che raccoglierà Effettivamente Alle urne E vabbè Questo lo vedremo La settimana prossima Vedremo Chi riuscirà A portare Più seggi E questo ovviamente Darà un disegno Concreto Di quella Che è la volontà Degli italiani Ancora vediamo Nella parte centrale Il colloquio Il vicepresidente United A capo di Chino Per il primo viaggio Infatti da Napoli A New York Tutti i giorni La campagna In questo modo Risulta essere Più vicina Al mondo Ancora a Napoli Permessi falsi Agli immigrati Residenti Al cimitero Sgominata la banda Arrestati due poliziotti Soldi Inviati anche A un terrorista Di Parigi E infine Vediamo Che cosa È accaduto Proprio a Napoli La guerra La guerra del Cardarelli La guerra delle Lenzuola Per un pugno di voti A Napoli Scoppia la guerra delle Lenzuola Dopo il caso Della biancheria Non fornita Ai principali ospedali Il ministro Dell'interno Invia Lenzuola Usa e getta Piccata La replica Del governatore De Luca Che ovviamente Vedremo nei particolari Dopo E ancora l'analisi La sinistra Che gioca Solo d'attesa Poi finisce sempre A Giorgio Gaber Il bagno Nella vasca È di destra E la doccia È di sinistra Il collanne È di sinistra E il reggical Più che mai Di destra Insomma vabbè Anche su questo Si continua a giocare E a fare Una politica Fatta di parole E di attacchi Ancora nella parte bassa Della pagina Guardiamo una notizia Che dopo andremo Ad esaminare Nei particolari A Colano Quando l'errore Diventa una favola La mamma Respinta dalla clinica E Marta Nasce in casa Con il papà E insomma Anche questo Ripeto Lo vedremo dopo Ma continuiamo a vedere Adesso le prime pagine Dei quotidiani nazionali Vediamo ancora Come ci vengono raccontati I fatti in questa giornata Vi ricordo che sempre È venerdì 24 maggio Siamo in diretta Con la rassegna stampa E passiamo proprio A un'altra testata nazionale Qual è la stampa E vediamo che Nella parte alta Della pagina Si parla Dei soldati di Maduro Che fanno strage Di civili Al confine E intanto La scelta di confindustria Noi garantiti Da Mattarella All'assemblea annuale Il presidente Boccia Parla di un'Italia Senza slangio Standing ovation Per il presidente La Repubblica Gero con il governo Conte Salvini Salgono al colle Rinviati decreti Famiglia E anche sicurezza Bissa Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo adesso Su il dubbio Sfida sull'abuso D'ufficio Il nuovo scontro Sulla giustizia Tra Lega e Movimento 5 Stelle Salvini attacca Ma poi frena E intanto Vediamo il magistrato Mario Palazzi Non toccate quella legge Gli onesti Non hanno nulla Da temere Mentre l'avvocato Nico Dascola Va cambiata Così come una norma Vaporosa E colpisce Nel mucchio E intanto Nella parte centrale Della pagina Vediamo in primo piano Il film di Bellocchio A Cann Buscetta il traditore Scesse la famiglia E rinnegò la mafia E ancora Nella parte bassa La conversione Garantista di Woodcock Non dategli l'ergastro Quei due ragazzi Meritano un'altra possibilità E vediamo di cosa si tratta L'accusa per i due ragazzi Di 19 e 24 anni Era molto grave Omicidio Con l'aggravante Di futuri motivi Ma il magistrato Napoletano Non solo Non ha chiesto L'ergastro Ma ha rammentato Il fine rieducativo Della pena Il fine pena Mai Per un ragazzo Di 20 anni Non è compatibile Con l'articolo 27 Della Costituzione Credo che neanche Un omicidio Sia compatibile Però Questo è un parere personale Ancora continuiamo A vedere le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Nell'ambito sportivo Con il Corriere dello Sport Zaniolo Lo scippo L'esterno della Roma Minaccia l'addio sui social Dopo la rapina Alla madre Poi non lamentatevi E la mamma dice Ora ho paura Perfino a uscire di casa E ancora Vediamo Sarri Il piano per liberarsi Juve tentazione Irrinunciabile Dopo la finale Di Europa League Chiederà ai vertici Del Cersi Di chiudere in anticipo Un rapporto compromesso Dalla vicenda Chepa E dal martellamento Di tabloid inglesi E nella parte centrale Della pagina Un'intervista esclusiva De Laurentiis 70 anni esagerati ADL Boom boom Ho rifiutato 900 milioni In Napoli Non è in vendita Io e Ancelotti Amici veri Voglio Quagliarella Insigne Non è un caso Resta qui E ancora Continuiamo a vedere Le pagine sportive Adesso vediamo Con tutto sport Qual è L'anticipazione Che viene fatta Eccolo qua L'esclusivo Chiellini In redazione Juve Avrai un grande Allenatore A quanto pare Già si parla Di questo Due ore Con il capitano Bianconero Parlando di tutto Dalle rede Di Allegra Al mercato Da Ronaldo All'ossessione Champions E ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina La svolta Toro Bava di S Con Moretti Petrarchi Lascia dopo Dieci anni In Granata E ancora Un festival Di fenomeni Formula 1 GP di Monaco CR7 E i box Di Monte Carlo Incontra Hamilton E anche I ferraristi E si parla ancora Di Giro d'Italia Il contrastato E soprattutto Discusso Giro d'Italia Oggi Cere sole Illumina il giro Nibali apre la caccia E con Con il primo Arrivo In salita E per quanto riguarda La prima parte Di questa rassegna stampa Tutta dedicata Ai quotidiani nazionali Ci fermiamo Vi do qualche attimo Di pubblicità Giusto per prendere Un po' di fiato E poi ritorniamo Subito dopo E continuiamo a parlare Delle notizie Più rilevanti Di questa giornata Delle notizie Delle notizie All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ed eccoci di nuovo in studio Sempre pronti ad affrontare le notizie Che ci riguardano più da vicino Andiamo a vedere Quelli che sono gli sviluppi Dell'informazione della regione Campania E partiamo da una notizia Che riguarda comunque L'ambito della cultura Perché a Napoli Si riparte con l'amica geniale Questa volta l'amica geniale 2 Il Ciac in Piazza dei Martiri E infatti nuove riprese Sempre a Chiaia Oggi in un palazzo storico della riviera A ridosso di Piazza San Pasquale E così che si ritorna a girare Infatti è quasi il tramonto Quando nella Piazza dei Leoni Spunta una fila di auto d'epoca Riprese ieri dalle 20 A Palazzo Partanna Sede dell'Unione Industriale Set super blindato All'interno dello storico edificio Si gira in notturna E i passanti si scattano selfie Con lo sfondo delle auto d'epoca C'è la vecchia Fiat 600 La Lancia Appia Come ha noto un anziano signore appassionato Mario Sicoli La Fiat Topolino Serie C Vespe 50 Anni 60 Color carta da zucchero E la Fiat 1200 Rossa Fiammante Anno di immatricolazione Pensate un po' Bile 961 Sono le 20.45 Quando nel palazzo Fanno ingresso nel palazzo Lila e Lenù Le due protagoniste Appunto dell'Amica Geniale E ancora continuiamo a vedere Le altre notizie In primo piano La notizia è che Mattarella A Castellammare Per la giornata del Varo Il sindaco Chiude le scuole E vediamo infatti Che il sindaco Di Castellammare Di Stabia Gaetano Cimmino Ha disposto La chiusura Delle scuole Compresi Gli asilo nido Per sabato 25 In occasione Della presenza Del Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Per la giornata Del Varo Nei cantieri navali Della città Il Varo Di una nave Spiega infatti Il sindaco Deve tornare A rappresentare Un momento Di gioia E di festa Per risaldare Il binomio Tra Castellammare Di Stabia Il suo cantiere navale Siamo estremamente felici E orgogliosi Di celebrare La giornata Del Varo Istituita Dalla nostra Amministrazione Comunale Con la presenza Del Presidente Mattarella La chiusura Delle scuole È stata decisa Per consentire Ai più giovani Di assistere Allo spettacolare Momento In cui la nave Scivola in mare Un metodo Diventato unico In Italia Che potrebbe Presto scomparire Anche a Castellammare Dove si progetta La costruzione Di vasche In quel stile Le navi Come avviene In tutti gli altri Cantieri dell'azienda E ancora Vediamo gli altri Fatti in primo piano Sempre da Napoli Il Preside Del Liceo Mazzini Studenti Via dai social Lo striscione Anti Salvini E infatti La direzione regionale Scolastica Ha chiesto al Preside La sua rimozione Dai social La censura Non risparmia Così le scuole Di Napoli Mentre la settimana Scorsa in città Spuntavano l'enzuola Contro il ministro Salvini Mentre in tanti Ribadivano La loro esigenza Di esprimere Il dissenso Verso il ministro Dell'interno Mentre il titolare Del biminale Era a Napoli Giovedì scorso Gli studenti Del nuovo collettivo Studentesco Del Liceo Mazzini Al Bomero Esponevano uno striscione Che recitava Salvini Not Today Nulla di offensivo All'apparenza Una libera ed educata Manifestazione del pensiero Ma la direzione scolastica Regionale Non ci è passata su Ed ha chiesto Ufficialmente alla scuola Che quello striscione Venisse rimosso Non dalle finestre Dell'istituto Dalle quali pendeva Ma dai social Sui quali i ragazzi Evano postato La foto Delle parole Che esprimevano A quanto pare Il loro dissenso E ovviamente Questo ha scatenato Tante polemiche E ancora da Napoli Si parla ancora una volta Di lenzuola Ma questa volta Ragione Del contendere E altro Infatti Salvini Manda le lenzuola Al Cardarelli Ed è Luca Le regali ai balconi Il biminale Fornisce 2500 Completi letto Dopo il caso Dello stop Agli interventi Deferibili A causa Della mancanza Di biancheria sterile Il governatore Se al ministero Amanzano Le mandino Ai centri di accoglienza L'azienda Fornitrice Già fatto Grazie L'ospedale Cardarelli Di Napoli Ha rallentato L'attività Per mancanza Di lenzuola E coperte Pulite Per risolvere Rapidamente L'emergenza A quanto si apprende Interviene Il biminale Grazie a materiale Grazie a materiale disponibile Nel centro assistenza Di pronto intervento Del ministero Dell'interno A capua Matteo Salvini Ha già dato il via Libera all'operazione Nel pomeriggio Il materiale è stato Consegnato all'ospedale Si tratta Di 2500 Completi letto Più 500 Lenzuola Mono uso Ma non gradisce L'iniziativa Presidente della regione Vincenzo De Luca Che immediatamente Risponde Le lenzuola Salvini Può sempre regalarle I balconi d'Italia Perché la richiesta È ormai da record Non sappiamo Aggiunge De Luca Chi è la fonte Del viminale Che ha prodotto Una nota diffusa Dalle agenzie Trattasi di un perfetto Idiota L'ospedale Cardarelli Non ha rallentato Assolutamente nulla Non c'è stata E non c'è Alcuna emergenza Sono state attivate Da parte del commissario Solo alcune azioni Prudenziali Per risolvere Le vere emergenze Facce il viminale Quello che è suo dovere fare È individuare E sanzionare Quelli che interrompono Pubblici servizi Mettendo in atto Iniziative ricattatorie Sulla pelle Dei malati E ancora Continuiamo a vedere Gli altri fatti In primo piano Ci spostiamo adesso Sempre sul quotidiano La Repubblica Però andiamo a vedere Gli ultimi allenamenti Del Napoli Calcio E Mertens Scherza con la telecamera Infatti Napoli sta affrontando L'ultima settimana La stagione La squadra si è ritrovata Al centro tecnico Che sta al volturno Per l'allenamento In vista della sfida Di sabato sera Con il Bologna Il morale del gruppo è alto E c'è voglia di scherzare Come testimoniano Milic E soprattutto Mertens Nel video Che è stato pubblicato Dalla società E insomma Tutti pronti Per scendere di nuovo In campo Per quest'ultima partita E per giocarsela tutta E ancora Cronaca Immigrazione clandestina Sette arresti A Napoli Ci sono anche due poliziotti Un'operazione della procura Sluminata una banda Nelle intercettazioni Abbiamo fatto passare Il mondo L'indagine partita Da una segnalazione Per finanziamento Al terrorismo Soldi inviati da un algerino Che avrebbe avuto Regami con Uno degli organizzatori Degli attentati Di Parigi Quasi 140 I permessi di soggiorno Indebitamente concessi Un'organizzazione con la complicità Di alcuni ex poliziotti Era diventata per la procura Di Napoli Un agguerrito Network criminale Specializzato Nell'ottenere indebitamente Il rilascio Il rinnovo Di permessi di soggiorno A favore di cittadini Extra comunitari Molto spesso Privi dei necessari Requisiti Di legge Attraverso L'utilizzo Di documenti Illegalmente Ottenuti E ancora Andiamo a vedere Gli altri fatti In primo piano Abbiamo già raccontato In breve Solamente Leggendo il titolo La notizia Di quanto Accaduto a Napoli La mamma Respinta dalla clinica E Marta La bimba Nasce con il papà E infatti Il primo regito Lo ha raccolto Proprio il suo papà Che l'ha presa Tra le braccia Per la prima volta Nei piatto doccia Del bagno di casa Nel centro di Ercolano E' lì che è nata Lunedì notte Marta D'Acunzo A farla venire al mondo Su padre Mario Che di mestiere Non fa il ginecologo Né tantomeno l'ostetrico Ma l'ingegnere informatico La moglie Carmela Lengo 32 anni Ci aveva provato Fin dalle prime ore del mattino A dire ai medici Che la sua piccola Stava per nascere Ma niente Per due volte Era stata visitata E dimessa Quei lunedì Dalla clinica Villa Bitania Di Ponticelli Riconosciuta Come eccellenza sanitaria Regionale Per ostetricia E ginecologia E scelta dalla coppia Per far nascere In tutta sicurezza Alla loro prima figlia Invece Racconta L'ingegnere ostetrico Ad onore Mario 35 anni Finalmente sorridente Dopo ore di tensione Marta Che secondo i calcoli Doveva nascere L'8 giugno E è andata di fretta Mattinata Carmela avvertiva Dolori strani Così siamo andati Prima all'asno del Colano E poi alla clinica Nelle 9.30 circa Il blocco Travaglio Parto L'hanno visitato E le hanno fatto Un'ecografia Tutto regolare Ci hanno detto Sono contrazioni Di preparazioni Io l'ho riaccompagnata A casa E sono andato Anche il lavoro Non avrei mai immaginato Ciò che in realtà Sarebbe accaduto Dopo E la vita è nata E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie Corsi professionali E qualifiche L'ite in Campania Su 15.000 diplomi E infatti Una bufera Comunque Nonostante la regione Faccia muro E smentisca Categoricamente Gli effetti Del parere Del Consiglio di Stato Che ha dichiarato Nulli diplomi Di qualifica Professionale Oltre 15.000 titoli Rilasciati Negli ultimi mesi Per le qualifiche Più disparate Che ora sarebbero Nulle Dai pizzaioli Ai baristi Dai parrucchieri Agli estetisti Ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Sempre da il mattino Dal cibo per cane Agli abiti Le rotte del falso Nel porto di Salerno Il porto di Salerno Infatti Si conferma Centrale delle attività Illegali E soprattutto Centro di smistamento Dei marchi Contraffatti Lo dimostrano Le diverse operazioni Polizia giudiziaria Ma anche I continui sequestri Da parte dei finanzieri Del gruppo Salerno Agli ordini Detenente Il colonnello Sebastiano Barbato Di prodotti Con falso marchio Made in Italy Le operazioni a tutela Della produzione italiana Vedono però Impegnati i militari Le fiamme gialle Un po' Su tutto il territorio Provinciale Ma non solo Cambiano anche Le modalità di produzione Del falso Con assemblamenti In loco E realizzazione Di targhette Nel caso di abiti Che richiamano In tutto i modelli Originali Comprese le indicazioni Per il lavaggio E insomma Veramente adesso Si è sempre più Alla ricerca Di un modo Per frodare E a quanto pare Ci si riesce Piuttosto bene Ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo A Caserta News Da Marcianise Il presidente La Repubblica Premia La nonnina Coraggio Così viene definita Angela Piccolo Nominata a Cavaliere Dopo aver messo in fuga E fatto arrestare I rapinatori Del suo tabacchi Eccola qua La vediamo Nell'immagine Insieme al primo cittadino Di Marcianise E la sua vicenda Aveva fatto Infatti Aveva fatto Il giro d'Italia Una storia di coraggio Quella di Angela Piccolo Che a 90 anni Ha messo in fuga Il bandito Che voleva rapinare Il suo negozio Di tabacchi Al centro di Marcianise E poi lo riconobbe Facendolo arrestare Dalla polizia Un gesto straordinario Almeno per l'età Della nonna Che il presidente La Repubblica Sergio Mattarella Ha voluto premiare Nominando la nonna Coraggio Cavaliere della Repubblica A prescindere dall'età Credo che comunque Abbia rischiato tantissimo Ma che comunque Sia riuscita Laddove molte persone Anche giovanissime Non riescono Ossia Ha semplicemente Detto quello che aveva visto E si è ribellata E ancora vediamo Le altre notizie Un buco da 6 milioni Dalla riscossione Dei lidi Blitz della finanza In comune L'inchiesta Della Corte dei Conti Sulla mancata Riscossione Dei canoni Di 115 lidi Sul litorale Di Castelvolturno Vediamo Nell'immagine Ritratta la guardia Di finanza In azione E i militari Del comando provinciale Guardia finanza Di Caserta Hanno infatti Ricostruito La posizione contabile Riferita al periodo 2007-2014 Di ben 119 Concessioni Demaniali Tra cui 115 lidi Balneari Che operano Sul litorale Di Castelvolturno Segnalando La mancata Riscossione Dei canoni Dovuti Per un ammontare Complessivo Di oltre 6 milioni E mezzo Di euro Ancora vediamo L'ultima notizia Per questa mattina E vediamo Che ci spostiamo Su Caserta Focus Da Maddaloni Gli allievi Del liceo classico Giordano Al teatro greco Di Siracusa E vediamo infatti Che gli allievi Delle classe quarte Del liceo classico Giordano Bruno Annesso al conflitto Nazionale Per aver scelto Teleprima E aver scelto L'informazione Che quotidianamente Facciamo da questa rete Vi ringrazio ancora una volta E soprattutto ringrazio Tecnocampus Che ogni mattina Ci offre la possibilità Di raccontarvi i fatti Vi auguro una buona giornata Vi do appuntamento Alla prossima settimana Sempre con la rassegna stampa E intanto vi auguro Un buon fine settimana Buona giornata a tutti Questo programma È stato offerto Da Tecnocampus Grazie a tutti